Pronto, ciao! Ciao, com'è? Grazie, però... Mentre ci sentiamo dopo. No, dopo no, rimani, ti prego, rimani. Dai! Ma se ti ho detto che ho da fare! Come ho da fare? E perché c'hai da fare? Devo accompagnare mia mamma. Oddio. Dal dottore. Madonna, che noia. Ti chiamo dopo un videochiamata, no? No, dai, rimani un po', ti prego. Per forza adesso. Sì, ti prego. Veloce, però. Allora, se domani puoi andare a pranzo con me, a luna. Va bene, va bene. Domani, allora, andiamo a mangiare la pizza al taglio. Sono d'accordo. A luna. Va bene per l'ora di pranzo, a luna. Ok. 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 Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao! 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 Grazie a tutti.